Il momento è quello della caduta del Governo Renzi e della sua uscita di scena, diciamo, poco elegante o irresponsabile per quanto riguarda la legge di bilancio, perché nella legge di bilancio al Senato sarebbero stati importanti fare alcune modifiche urgenti per le quali anche il Governo si era impegnato, anche riguardo alle province, per stanziare delle risorse, ma queste risorse a questo momento non sono stanziate. Quindi noi vi chiediamo che cosa avete intenzione di fare su due fronti. Un fronte è quello delle risorse che anche la Regione può stanziare per la manutenzione e per dare un sostegno alle province. L'altro è quello dell'interlocuzione politica, perché questo nuovo Governo, poi ognuno farà il nostro giudizio già molto netto, ma con qualcuno bisognerà riprendere in mano il filo di come la gestione delle strade in Regione vada governata. Grazie. I finanziamenti previsti ed assegnati all'amministrazione regionale sono stati nel tempo sempre adeguati alle necessità manutentive della rete stradale trasferita alle province, sulla base di una chiara normativa nazionale. Dal 2010, però, i suddetti trasferimenti dallo Stato alle Regioni relativi alla viabilità sono stati annullati. Siamo quindi pienamente a conoscenza delle criticità presenti nella viabilità regionale e abbiamo un tavolo continuo con i territori, con il Governo e con Anas per affrontare insieme la messa in sicurezza delle nostre strade. Sì, grazie Presidente. Ringrazio l'assessore per i dati dettagliati, però nel bilancio 2017 mi sembra che i soldi per la manutazione stradale siano usciti ieri da un emendamento perché mi pare non fossero presenti. Il tema è un tema importante perché oggi abbiamo parlato di strade ma sicuramente non possiamo poi dimenticare anche le scuole che sono rimaste in pancia e le province e quindi una riflessione va veramente fatta a tutti i livelli e l'invito che vi faccio è quello di farvi portavoce verso il nuovo Governo, che non abbiamo capito se sarà uno yogurt o un latte a lunga conservazione, già a lunga conservazione potrebbe essere un titolo interessante come mandato di programma, potrebbe essere, temo che sia così, però al di là delle battute le province avevano già fatto presente col Governo uscente che non avevano risorse e c'era stata una promessa che nel passaggio al Senato si sarebbe intervenuti. Questa promessa non è stata mantenuta per l'arroganza di un Presidente del Consiglio che prima gioca, fa scommesse al buio sul futuro del Paese, sia delle province che sulla legge elettorale bloccando un intero Paese e adesso speriamo che qualcuno in maniera più responsabile si faccia carico di questo problema. Grazie.